Ciao a tutti ragazze e ragazze bentornati sul mio canale, io sono Gio Red e oggi parliamo di Amici 19, in particolar modo di Francesco Bertoli. E' tempo di esami di sbaramento ad Amici 19. La classe del talentation di Maria De Filippi, composta da 18 studenti, deve essere ridotta di due elementi. Nel gruppo degli alunni da giudicare ha anche il cantante Francesco Bertoli, chiamato in studio per la prova alla ricerca della promozione e della conferma del banco. Francesco si è esibito su richiesta della professoressa Anna Pentinelli in Roxanne, celebre bano de The Police. Francesco intona qualche parola e viene subito fermato dalla docente. Manca la carica emotiva quasi erotica necessaria per interpretare il brano, esordisce le a pettinelli. La docente di canto allora gli lancia una sfida, canta il brano a petto nudo, per riuscire a tirare fuori il proprio intimo e i sentimenti più profondi. Francesco risponde alla provocazione ed esegue l'ordine, ma dopo la performance il cantante viene rimandato nella sala relax in attesa del giudizio. E una volta tornato in studio, Anna Pettinelli gli evidenzia che un professore può insegnare la tecnica al proprio studente, ma il coraggio e la determinazione devono nascere dall'interno. Non ti vedo convinto, torna quando sarai di più. Francesco torna in sala relax e racconta ai suoi colleghi quanto è accaduto. Poi l'idea, presentarsi davanti al corpo doncenti non solo senza maglietta, ma addirittura in mutande e i capelli spettinati. Il biondissimo si prepara con l'aiuto di Devil e Valentin, poi torna in studio tra lo stupore dei professori e canta nuovamente il brano dei De Polis. Questa volta i compagni possono assistere all'esame, rimanendo entusiasti dell'esibizione. Alla fine Anna Pettinelli lo promuove e gli consegna, e gli consegnano nuova divisa da indossare. Con questo ho concluso il video. Se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Joe Redd. Ciao!